Musica Hi people of youtube Welcome back to a new episode of Centro Due a parte gli scherzi Benvenuti in questa nuova puntata Allora, purtroppo Questa puntata Diciamo che è una riregistrazione Di una puntata Che purtroppo è stata corrotta Cosa voglio dire? Non so se per colpa mia o meno Non ho registrato L'audio di questa puntata Ora voi direte E come fai a recuperare questa partita? Semplicemente È il gioco stesso A darci questa opzione In alcune case C'è una bacheca Cosa fa la bacheca? Ti fa rigiocare le missioni già finite Questa feature L'ammetto Non mi è mai servita Fino ad ora Non credevo sarebbe mai successo Ma Alla fine È successo veramente Aspetta un attimo che Questa macchina la voglio Fermati Certo Sarà più brutta Della mia macchina Ma mi mancava in collezione Grazie Dicevamo Non mi è mai servita Questa Questa feature Oggi Incredibilmente Ci torna utile E voi mi direte Ma scusami Non fai prima tornare indietro a un salvataggio? Cosa che io farei effettivamente Ma ho già salvato su quel salvataggio Perché ero già convinto Di averlo già Il filmato di oggi Solo che nonostante questo vestito sia bello Non è adatto alla puntata di oggi Bene Il gioco si è appena bloccato Per vedere un cazzo di vestito Il gioco si è bloccato Fantastico Dicevamo Rieccoci qua Andiamo nello studio E andiamo a leggere il quotidiano Rigiochiamo la missione Sole eterno Giustamente Eh c'ha ragione su questo Devi rispettarlo Shondi E' quello che ha detto E' quello che farai Stabilimento Carni Forza Arriviamo Mr. Sunshine Sto arrivando Eccoci arrivati Maledetti Sons Vi farò fuori tutti quanti Voi e i vostri maledettissimi clienti tossici No beh quelli forse Li lascio vivere Perché magari me li prendo io come clienti Poi I tossici Sono i migliori clienti che puoi avere Quando hai uno spaccio di droga Giustamente Cosa volevi farmi? Un'imboscata? Cosa credi? Che io sia impreparato? Sono qui per uccidere voi E il vostro capo Non ho paura di nulla E non mi fermerete Né ora Né mai Maledetti Però vorrei provare a lanciarne uno qua dentro ora Cazzo Aspetta Vieni qua tu Vieni con me Vieni con me che voglio provare A lanciarti qua Anche se so già che non finirà Come spero Ovviamente Dai è morto Peccato Uh Carne di prima qualità vedo Aspetta Aspetta Ce ne è ancora Ce ne sono ancora un paio Vieni con me tu Voglio provarci assolutamente Ci proverò Giuro Proviamo No E da Però è scomparso Però il corpo è scomparso Voglio credere che sia finito qua Ma sai perché ci ho provato? Perché questa zona mi ricorda molto Postal 2 Solo per quello Ma stai buono Scemo Uh Guarda un po' Vediamo se sanguina 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 Almeno quello Forza dove vi nascondete Maledetti Non si salverà nessuno di voi In questo impianto Sappiatelo Sono qui per uccidermi tutti E non ci saranno sconti Sunshine Dove ti nascondi? Non ti nascondere da me Affronta la morte Se è questo ciò che temi Io te lo darò Ridi su sto No scusami È un momento serio Il ragdoll La cosa incredibile È che in questo momento Lui è immortale La bambolina Crepa Crepa maledetto Ecco fatto Sistemato Sistemato Wow Che ripresa incredibile Oh la madonna Che resistenza c'hai Guardalo Ancora vivo Tira gliela in faccia Tira gliela in faccia A sta pistola Così Oh Oh Beh Giustamente Meglio tagliare Il problema Alla radice No Qualcuno Qualcuno si troverà Un bel pezzo Di carne extra Stasera Nel piatto Sons of Samedi Sole eterno Completato Ovviamente Zero dollari Perché i soldi Ce li hanno già dati Però è stato altrettanto divertente Mi dispiace che non sia stato il primo impatto Effettivamente Questa registrazione Però effettivamente la missione è stata bella Da riviverla lo stesso Quindi signori Vi ringrazio a tutti per avermi seguito Come avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti